Come si può arrivare in Serie A? Che cosa vuoi curarli? Io certamente metterei la firma per un secondo posto perché l'esperienza dell'anno scorso già ci ha insegnato tanto il secondo posto sarebbe già una grande vittoria tenendo conto delle difficili condizioni anche psicologiche in cui questa squadra si sta esprimendo dobbiamo essere consapevoli che giocare un campionato difficile, lungo, come quello di Serie B con la continuità che tutto sommato il Palermo ha avuto per tutto l'anno è già una grande vittoria, un grande risultato adesso manca veramente lo scatto finale e noi auguriamo di cuore al Palermo di farcela quest'anno e di buttarsi alle spalle quella brutta esperienza dei playoff dell'anno scorso Assolutamente sì, come sempre lo dico io, forza Palermo e speriamo che alla fine facciamo una grande festa in questo campionato e torniamo a giocare nel campionato che avremmo meritato per quello che mi riguarda già di giocare quest'anno E' il campionato che il Palermo merita la Serie A Grazie, grazie ancora